Camelot 1, Camelot 2, che succede? Sia giù! Due ore fa il convoglio con la figlia del presidente è stato attaccato nella provincia di Gansare. Avete 48 ore dalla ricezione di questo messaggio. Cassandra Clay? Salvate lei e siete liberi. Questa si chiama missione suicida. Quando cominciamo? Venite qui, ragazze. La loro base operativa è una ex prigione sovietica, una vera e propria fortezza. Obiettivo colpito. Vai, libero. Qual è il piano? Facciamo saltare in aria questo posto di merda. Non è finita qui! Sì, ci puoi contare!